Sono Raul Lovato, Vice Sindaco dei Ragazzi e con Saverio Cavasini rappresentiamo il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ringrazio il Sindaco, il nuovo Preside e gli Assessori per averci invitato a questa inaugurazione della nuova palestra scolastica. Questa struttura è destinata dai ragazzi alla nostra sana felicità, che con lo sport ci aiuta a stare insieme. Fin dall'antica Grecia ci dava un grande valore alle attività sportive, in quanto era fondamentale sia per l'educazione del corpo che della vita. Infatti sono i greci che hanno istituito le prime Olimpiadi. Ancora oggi l'agonismo è una disciplina dello sport, solo per noi ragazzi, momenti importanti che ci erano all'impegno e al sacrificio. Io ritengo che questa nuova palestra sia molto importante per noi ragazzi e bambini, perché ci offre opportunità di svago e di allenamento. Calenti, destinati allo sport. Per questo io personalmente non vedo l'ora di allenarmi qui.